Secondo l'ordine che mi dà il regolamento io devo dichiarare chiusa la discussione generale e do la parola per la replica al rappresentante del governo. Avendo avuto la parola dal Presidente posso fornire una risposta alla richiesta che viene posta dai partiti di opposizione? Ho dato la parola al rappresentante del governo. Onorevoli senatori, quanto alla richiesta di chiarimenti sulle convenzioni il governo mette a disposizione del Senato le convenzioni così come è richiesto dalle opposizioni. Le opposizioni potranno prendere visione delle convenzioni che saranno trasmesse alla Commissione e valutare se votare a favore del governo. Continua a parlare, prego, tanto lo ascoltiamo. Sulle ministri, pongo la questione di fiducia. Sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge numero 1651 di conversione del decreto legge numero 133 del 2014 nel test approvato dalla Camera dei Deputati. Siamo in dittatura, un film mutuo per chiedere la fiducia di che? Su che cosa? Nessuna commissione si espressa a favore di questo provvedimento di... ... ... ... ...